buongiorno buongiorno ragazzi allora adesso si inizia subito con una bella salita sull'asfalto perché lasciamo la macchina qui vicino alla sentiero per l'eremo di san michele perché dopo quando arriviamo giù non mi va di farmi la salita fino sopra a recuperare la macchina si sale verso il monte dancia si sale verso il monte dancia grazie 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 siamo sulla cresta verso il monte dancia grazie ecco a voi il famoso gatto delle neve ma no siamo su due non so niente io ero attratto ma ragazzi mi ero attratto mi ero attratto mi ero attratto ma anche il tralmiero mi ero attratto il fatto che mi ero attratto l'ultima 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 Grazie a tutti.